Bella a tutti ragazzi o chiunque essere vivente mi stia guardando Oggi siamo qui su Among the Sleep e io sono il vostro Jax per chi non lo sapesse ancora Allora è un gioco horror ovviamente no perché noi di giochi horror ne sappiamo E una demo perché ovviamente non sono riuscito a provarmelo o altri metodi Va bene non importa partiamo subito con questa demo e speriamo di non cagarci troppo in mano Ok Dove essere una cosa fantastica questo gioco Noi siamo in una culla Siamo un bambino Cos'è che si muove sotto le mie coperte? Che abbiamo paranormal activity Ma è sparito, se n'è andato di là Cosa sta succedendo? Ecco il letto si muove da solo Yahu! Bene Sono un bambino 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 Ho paura di aprire questa porta Ma devo farlo lo stesso Ok 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 Sgabello Le Yeeeh Toc toc C'è nessuno C'è qualcuno che tossisce lì dentro Voglio vedere chi è Daddy Ma cos'è Cioè non so se avete sentito Ma c'era un cane I'm a baby I'm a baby I'm a baby Vieni con me Teddy I'm a baby I'm a baby Ola Ola Cos'è sta cosa una pipa Sono un bimbo 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 Perché questa televisione non funziona? Ehi State guardando Heidi Oh Madonna mia Mi fate spaventare Poi il volume è troppo alto Ok Allora Ok Ora ci sono Cos'è caduto Prima di qua? Delle noci di cocco? O è solo cocco? C'è il frigo aperto Taddy Hi Taddy Chi è questo? Vieni con me Che cosa Che cosa è sta roba? Grigio C'è scritto qualcosa E prima è caduto un vaso E si vede Sedia tu vieni con me Che dobbiamo aprire quella porta Sedia Vieni Ok Vai bimbo C'è nessuno Ehi C'è nessuno Va bene Ok Un altro estintore Vai la C'è nessuno Ehi Sono un bimbo Sono un bimbo Ehi Ehi la Chi c'è qua? Sono solo un bimbo Non so neanche dove sono Bimbo 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 Ok Cosa c'è di qua Bimbo Vai a vedere Bimbo Ehi la Cosa abbiamo qui Pantofono Sono pantofono Ma qui c'è mamma che dorme Mamma Apri sta cazzo di porta Mamma Ciao Jacoby Mamma Ehi mamma Ciao Imbro Spidermen Mama 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 Mamma Mamma Oh madonna mia Oh madonna mia Ma non c'è mia madre sul letto Non c'è nessuno cazzo I'm a baby Sono un bimbo senza madre Chi è che canta Mamma Ma Mamma 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 Suonato l'orologio Oddio Oddio Oh madonna mia Oddio Io non vado più di là Mamma 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 Ma che cosa è sta cosa? Dove sono? Ma cos'è? Sono nell'acqua Che cazzo è? Mamma Ma certo che sei un po' malata Se fai ste cose Cos'è qua? Una moneta Super Mario Cos'è sta? Fatemi passare Fatemi passare Cazzo Dove sono? Dentro la stufa Mamma Oddio Ok 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 sto volando Sto volando Sto volando Mio dio Ma dove sono? Non si vede niente Che è morto Che è morto Cerca di Non si vede niente Non si vede niente Cos'è sta casa Dell'orsetto Bunny Vai Teddy Vai tu a vedere Teddy Teddy mi hai aperto La porta T-Ted Per Giamza Grazie a tutti. Ah, finisce così. Va bene ragazzi, grazie per aver visto questo video. Iscrivetevi al mio canale per avere nuovi aggiornamenti su eventuali nuovi game. E ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!